Con la bellissima Olimpia, e allora sto chiamando l'Adri di Caronzella, eccoci qua, benvenuti, benvenuti. Allora, l'Adri di Caronzella, loro sono una rock band nata dal 1929 e dalla passione comune per la musica di altri amici che iniziano a suonare insieme la particolarità che il gruppo è formato principalmente da artisti con disabilità. Dopo 35 anni di attività ininterrotta, propongono musica inedita e grandi cover, però le storie e video attraverso i quali cercano di abbattere ancora più di musica i pregiudizi e i luoghi comuni nei confronti delle persone con disabilità. Le loro armi principali sono la leggerezza, l'autorionia, il buon umore, l'ottimismo, l'autoranza, caratteristiche che veramente si associano alle persone con disabilità, il tutto associato sempre a grande professionalità e competenza musicale. e io direi che non è più difficile, perché voglio mostrare un video e dovrò iniziare proprio i ragazzi insieme.